Teramo sconfitto al debutto in campionato al Ceravolo di Catanzaro. È stato il primo tempo a far pendere decisamente la bilancia per i padroni di casa di Auteri. Giallorossi in palla e brillanti contro un Teramo dalle gambe ancora pesanti. Tedino sceglie Martignago e non Magnaghi al fianco di Cianci. Per il resto formazione come nelle attese con l'ultimo innesto Bombaggi in panchina. Catanzaro con l'ex pescarese Nicastro al centro dell'attacco sarà, lui sì, un fattore. Il Catanzaro parte subito forte e Cegliento da molto lontano fa partire un tiro potentissimo che Tomei disinnesca in calcio d'angolo. Il Teramo risponde un minuto dopo con l'azione personale di Mungo che vince un rimpallo e calcia forte e angolato. Di Gennaro è bravissimo mentre Martignago si rammarica con un passaggio dell'ex Cosenza. Si sarebbe ritrovato davanti all'estremo ospite. È una fiammata che non ferma l'iniziativa del Catanzaro che anzi va in gol al diciassettesimo. Cegliento, difensore attivo in zona avanzata, avvia l'azione e la va a concludere di testa dopo cross di Canutè. Tomei la tocca sul palo, Mani Castro è il più lesto di tutti per il tap-in nei pressi della riga di porta. Troppo lenta la reazione dei difensori Teramani nella circostanza. Passano cinque minuti e il Catanzaro raddoppia. Riggio prova a chiudere un triangolo molto lungo e la sua traiettoria di corsa incrocia a quella di Ilari per poi andare a terra. Dal replay il contatto non sembra essere così chiaro, rigore generoso per il Catanzaro che il senegalese Mamadou Canutè trasforma. Il Teramo è stordito e al trentaduesimo si fa infilare da un lungo lancio da piazzato. Canutè tenta lo scavetto ma Tomei è molto bravo e tiene in piedi il Diavolo che al trentaquattresimo perde Martignago per un guaio muscolare. Subito nella mischia Bombaggi con Tedino che ridisegna il Teramo. Lo sterile colpo di testa di Nicastro manda i titoli di coda al primo tempo. La reazione del Teramo arriva ad inizio ripresa. Bombaggi riceve palla in area di rigore, punta Cegliento e poi va giù. Per il direttore di gara è ancora calcio di rigore. Giallo per Cegliento, dagli 11 metri va lo stesso Bombaggi ma di Gennaro intuisce e para. Siamo al terzo minuto. Una prudezza vanificata al settimo dall'otto gol di Cegliento. Tanto bravo in avanti quanto sciagurato nelle retrovie, suola deviazione sull'innocuo cross di Santoro. Partita dunque riaperta, anche se al diciottesimo Nicastro correggio un tiro dalla distanza col tacco, la palla pizzica il palo. Tedino fa ricorso alla panchina, dentro Magnaghi e poi Viero e K, ma il Teramo non riesce a costruire. E il Catanzaro amministra il vantaggio anche grazie alle giocate di un Giannone, bravo a congelare il pallone. Finisce così con la prima sconfitta stagionale per il Diavolo che deve ancora lavorare tanto. L'aspetto positivo è non essere crollati nel momento più difficile contro un avversario forte. Ma è chiaro che da questa squadra nel tempo si potrà e dovrà pretendere di più.